In questo film c'è finalmente, finalmente un ritratto della generazione dei millennials più lusinghiera perché vengono sempre classificati come nulla facenti, non in grado di assumersi le proprie responsabilità. Quindi vorrei fare un esperimento antropologico adesso con questa intervista e vediamo due generazioni a confronto. Vorrei che vi diceste, un difetto, un luogo comune che pensate abbia l'altra generazione è invece un pregio e come nel cinema e nella società si può superare questo gap? Vediamo che esce fuori. Vai. Oddio. Io inizio con i difetti. Vai, vai, inizia tu, inizia tu. Un pregio e un difetto? Forse siete un po' ottusi. Ecco. Così. E un pregio... Beh, una saggezza forse, alcuni. Tu? Allora, il pregio penso che sia il fatto che nonostante da quando sono nati gli è stato detto che il futuro sarà terribile e che qualsiasi passo facciano, lo fanno in modo sbagliato, all'interno di una società che cambia costantemente riescono comunque a trovare spazi e modi per potersi affermare, in qualsiasi modo, passando come tutti attraverso errori, attraverso testate contro il muro, però provandoci. Il difetto è quello che è il luogo comune poi che li contraddistingue, c'è un po' di distrazione eccessiva e di tendenza, diciamo, tendenza all'apatia. Ti senti apatica? Non tanto io, sinceramente, però lui l'ha detto, dobbiamo dire di sì. Non mi riferivo a lei però, perché lei è un caso particolare, lei è un caso particolare, lei è, insomma, e lo sa, l'ho sempre chiamata il soldatino, nel senso lei è invece, lei appartiene alla categoria di quelli che, come dire, che in qualche modo hanno già una testa da cinquantenni, in qualche modo. Purtroppo, perché in alcuni casi è un po' un limite, ecco. E quindi questo film entra in questo filone, come si può superare questo gap anche proprio nella comunicazione, nel cinema, nella tv? Non lo so, in questo caso specifico questo è un film che ha degli adolescenti protagonisti, ma ha anche il mondo che sta attorno a loro, che è altrettanto protagonista. Quindi, ma il gap tra le generazioni è qualcosa che non si deve superare, nel senso che forse è anche bene che ci sia, è sempre stato così, cioè le giovani generazioni, al di là del periodo in cui sono cresciute, sono sempre sembrate come un corpo estraneo rispetto a chi le precedeva. E questo credo che sia anche sano, cioè il fatto che si debba passare attraverso il fatto che i genitori, che sia quelli, diciamo, naturali, che quelli non naturali debbano in qualche modo essere uccisi, sempre metaforicamente, speriamo, credo che sia, ripeto, un passaggio non solo naturale ma doveroso. Ma il modo in cui, cioè, senz'altro ad esempio con film del genere, penso che questo sia una sorta di rivoluzione, perché vedere come dei ragazzi di 16 anni si possano assumere la responsabilità di diventare genitori, con tutti ovviamente le conseguenze che poi ovviamente ci sono, anche gli scontri con i genitori, per me questo è già un modo per far svegliare questi, anche per eliminare quello che è il luogo comune dei giovani che non si assumono le responsabilità, che rimangono nella loro zona di comfort e così via. Una curiosità su una persona che non è qui, Marinelli, voglio sapere per una giovane attrice come è lavorare con l'attore italiano del momento e invece siccome ormai Marinelli in ogni film che fa c'è almeno una battuta che diventa un tormentone, io penso che qui ce ne sia una che è datte, voglio sapere se l'avete concordato prima insieme oppure se è stata una sua improvvisazione, una sua scelta. Allora, io in generale, ma in questo film in particolare, non è un film di improvvisazioni, è un film che è il frutto di lunghe prove, è un film sul quale abbiamo lavorato molto con gli attori, con tutti, con i giovani, con i meno giovani, cercando di trovare assieme le strade più giuste per come ogni personaggio doveva in qualche modo muoversi, parlare, comportarsi. Quindi è un lavoro collettivo, ma è un lavoro, non è un'improvvisazione quello che è stato fatto. Quindi era già nel copione, il datte? Era nella scrittura, sì, era una scrittura, in realtà il datte nello specifico era... Sai che in questo... Non me lo ricordo con precisione perché in realtà c'è stata ovviamente una scrittura molto approfondita, anzi ne approfitto per citare chi con me ha scritto il film, che sono Francesco Bruni e Ludovico Rampoldi, che sono stati straordinari nel lavoro che hanno fatto. Su quel testo che era già così fortemente ben scritto, c'è stato ovviamente un lavoro insieme agli attori per fare dei piccoli lavori di adattamento. Quindi in uno specifico lasciamolo così nel mistero, ma perché autenticamente non me lo ricordo, non per un fatto... voleva fare una cosa misteriosa, ma non è riuscita. Beh, per me è sicuramente un onore, a parte che tutte le mie amiche sono impazzite all'idea veramente con Luca Marinelli. Poi lui la cosa più bella per me è stata che, a parte come attore, che vabbè, è straordinario lui, però proprio come persona, lui è così come te lo immagini, così alla mano, così simpatico, che sdrammatizza, che fa battute di continuo, e per me questa è stata la cosa più sorprendente, perché poi ovviamente la sua capacità di attore era abbastanza ovvia. Ok, perfetto. Grazie. A te. Io sono il nonno. Davvero? Complimenti. Complimenti a te. Ma non c'è niente di me, è un po' poco di bocchia.